Gentili telespettatori, buona giornata. Vi racconto un'altra vera assurdità. Davvero, io ci metto tutto l'impegno ogni giorno a cercare di entrare nella testolina di quelli che pensano a sinistra e non ci riesco. Non riesco a capire come un sindaco, Giuseppe, che si fa chiamare Beppe, dice perché si fa chiamare Beppe? E te lo sai. A sinistra hanno tutto il soprannome, Beppe, Nicchi, Rosi, Elli. Ma dico io, ma ce la fate? Se avete un nome, usate un nome quello che c'è l'alnagrafe, no? Ma cos'è sta storia dei soprannomi? Sante Romane Ecclesi. Andiamo avanti, va? Quindi Giuseppe, detto Beppe, poi magari scopro che si chiama davvero Beppe. Faccio una figura da... no, guardate, l'ho appena cercato. Proprio le informazioni sulla sua scheda informativa in internet. Giuseppe Sala, detto anche Beppe, è un politico. Giuseppe, Beppe, vabbè. Cosa vi devo dire? A sinistra hanno i soprannomi. Ma sentite cosa dice Giuseppe Sala. Ma no, ma chiamalo Beppe, se no neanche si riconosce. Giuseppe Sala, che si fa chiamare Beppe, come Giuseppe Piero, che si fa chiamare Beppe Grillo. Beppe, uè, Beppe! Beppe! Al qualcuno può dire Beppe, Beppe. Vabbè. Sapete cosa dice questo qua? Lo chiami questo qua, ma abbia un po' di rispetto. Questo qua, va bene questo qua. Oh, 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 dice sì che agli, ricordate, come li chiamiamo? Ecovandali, ecoteppisti, quelli che imbrattano i monumenti con la vernice, le opere d'arte. Ecco, vadano a insegnare a scuola. Non vadano a quel paese, vadano a insegnare a scuola a quel paese, magari. Ecco, vadano a insegnare a scuola. Prima abbiamo sentito il presidente del PD della regione che dice, che ci parla dell'accordo PD-mafia-criminalità, portato l'ingegnere dalla sorella del boss. E poi sentiamo Giuseppe Sala che ci racconta che dovrebbero andare a insegnare gli imbrattatori di monumenti, ma sì, diamogli anche una cattedra, ad honorem. O creiamo un corso di laurea, scrive Libero, il corso di laurea in ecovandalismo, il master in ecovandalismo. Premiamoli pure, no? Quelli di ultima generazione, quelli che bloccano le strade, quelli che così bloccano anche i mezzi di soccorso, quelli che fanno arrivare tardi al lavoro, all'ospedale le persone, quelli che mettono la vernice lavabile sui monumenti. Voi sapete che la vernice lavabile è aggressiva quanto la vernice normale, quella chiamata normale. Ecco, la vernice lavabile, se non la togli entro dieci minuti esatti, comincia chimicamente ad aggredire quello che c'è sotto. Chiaro? Quindi sono dei vandali, veri e propri teppisti, vandali. Ebbè, ma per alcuni sono tanto buoni. Ecco. Hanno devastato monumenti, il famoso dito di Cattelan davanti alla sede della Borsa, l'ingresso del Senato, e poi lì in Piazza Duomo, il monumento che c'è al centro, ma qualcuno li definisce dei gesti eroici. Eroi che fanno gesti eroici. Eroine che fanno gesti eroinici. Non lo so come si dice, sto inventando ovviamente. E poi sapete quanta acqua si spreca, quanti migliaia di litri d'acqua si sprecano per pulire questi gesti eroici? Ecco. Bene. Andiamo avanti. Ovviamente sono a processo, sono stati anche diversi condannati a pagare un 60.000 euro di danni. Giustizia riparativa. Però, va bene. A parte la giustizia, in alcuni casi ci può stare, dice proprio, afferma il sindaco di Milano. In alcuni casi è più facile, in altri no, in questo caso ci può stare. Quindi invece di puntare il dito sui vandali. Allora, Picchetto Frattin respinge la proposta di Sala. Dice, credo che debba mandare gli esperti nelle scuole a parlare di crisi climatica, la parte di educazione civica e di informazione nelle scuole è fondamentale. Avete capito? L'idea di mandare questi vandali nelle scuole a parlare. Certo che già abbiamo assistito a ragazzi che escono dalla scuola con lo zainetto, tra l'allero, tra l'allà, e vanno nelle manifestazioni a prendere a calci la polizia, a sfondare i posti di blocco, a sputi agli agenti. E quindi già abbiamo una società degradata, degradante, che sta sempre più andando verso il basso. Ovviamente Mattarella diceva, beh, quando arrivi con i manganelli sui ragazzini vuol dire che la società ha fallito. Eh sì, la società assolutamente ha fallito. Perché quando hai dei ragazzini che vanno a prendere a calci la polizia e tentano di sfondare un posto di blocco, la società ha fallito. Dove sono i genitori? Dov'è la scuola? I genitori che lavorano fino alle 9 di sera perché non hanno alternativa. Dalle 8 del mattino alle 9 di sera arrivano a casa. Dopo aver fatto il giro della regione per andare a lavorare. Questi ragazzini e ragazzine abbandonati a se stessi, da soli, mattina, pomeriggio, sera, da soli. Vengono su un po' come dei selvaggi e allora vanno a tirare i calci alla polizia. Perché? Perché qualcuno gli ha detto, gli ha fatto capire che sono dei cattivi. Che sono dei nemici. E poi questi giovani d'oggi ormai, una buona parte, non diciamo tutti, che sono degli sbandati, poi li facciamo star seduti in classe e arriva un ecovandalo, un vandalo che va a imbrattare i monumenti, che gli va a spiegare pure le cose. Che cosa volete che spieghi un ragazzino con i capelli colorati che va a imbrattare i monumenti? Possiamo metterlo davanti a degli alunni che già sono persi di loro perché non hanno genitori, che li seguono, la scuola non so dove sia. Ecco, poi gli facciamo fare anche le lezioni dagli ecovandali, no? Che gli raccontano che magari è giusto sedersi in mezzo alla strada a bloccare le persone e che è giusto andare a imbrattare i monumenti per farsi notare. Quindi l'illegalità come mezzo per farsi notare. Beh, complimenti a Giuseppe che si fa chiamare Beppe Sala. Beh, eh sì, li chiama anche degli esperti per parlare di crisi climatica. Educazione civica, è certo. Facciamo proprio fare l'educazione civica da quelli che commettono delle illegalità. E poi ci stupiamo che il ragazzino con la cartellina, pum, va a tirare i calci alla polizia. E voi vi stupite. Se questa è la società, come ce la racconta Giuseppe detto Beppe, forse si sarà sentita con Elena detta Ellie, chi lo sa. O con Rosaria detta Rosi Bindi. Bene. Quindi le scuole poi non devono essere un luogo di propaganda. Le scuole non devono far parlare gente che fiancheggia l'illegalità. Bene. Intanto Intanto vi racconto Vi racconto poi in un'altra Abbiamo sforato il tempo Ci vediamo al prossimo video Arrivederci a tutti Grazie. Grazie a tutti